Di questi tempi, quando il silenzio si fa strada in una società di calcio, due sono le cose. O si sta lavorando a un progetto importante in vista della stagione successiva, oppure c'è qualcosa che non va nell'entourage dirigenziale. Per la paganese scegliamo, senza ombra di dubbi, l'opzione numero uno. Qualcosa di grosso bolle in pentola a pagani. Innanzitutto la società azzurro stellata sta cercando di completare accordi con società di serie A e B per ottenere in prestito giovani di valore, di prima scelta provando a non farsi soffiare da altri sodalizi ragazzi più interessanti. Rientra in quest'ottica il rapporto di collaborazione che è già cominciato l'estate scorsa con il Parma e che si sta intensificando in queste ultime settimane. Dal sodalizio ducale arriveranno elementi importanti da dividere forse con il gubbio, che è diventata società satellite proprio degli emiliani già l'anno scorso. Ma la paganese non si ferma al Parma, nell'ambito dell'affare William, instaurati rapporti importanti con il Genoa, che solitamente però preferisce dare i propri giovani migliori in B o in Lega Pro Magirole Nord. Intanto proprio William, insieme a Dele e qualche altro, dovrebbe essere tra i confermati per la prossima stagione. Si vocifera anche di una guida tecnica importante, ma per ora inutile fare nomi, trattasi solo di indiscrezioni. Qualcosa si muove anche in casa nocerina, mentre l'attuale club, escluso dal campionato, attende il completamento dell'iter per la liquidazione, seguente nuove incognite per il futuro sportivo, c'è qualche imprenditore del posto, come andiamo dicendo da tempo, che sta già organizzando qualcosa per l'anno prossimo. Innanzitutto il rilevamento di un titolo di eccellenza e la ripartenza con un nuovo nome. Si cercherà poi di trattenere alcuni giovani che stanno ben figurando nei campionati berretti allievi. Infine, ultima, ma non ultima, la Salernitana. I Granata anzi volano verso una posizione importante dei play-off. Intanto, mister Gregucci ha il suo bel da fare in questi giorni. A Grosseto mancheranno per squalificatoia e bianchi, quindi si dovrà ridisegnare la difesa. Cresce invece l'entusiasmo tra i tifosi. Il pubblico di Fede Granata è al primo posto della classifica di presenza in Lega Pro e in Maremma saranno almeno 500 gli riducibili al seguito di Foggia e compagni.